Aiuto, aiutami a far uccidere il coltello! Aaaaaaahhhhhh! Aaaaaaahhhhhh! Peter! Peter! Aaaaaahhh! Pronto, qui al teatro Fiamminga di Bruges. Lo sai che Peter è morto. Ma... è assurdo, ci siamo parlati da poco! Pronto? 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 Chi ti ha insegnato a fare l'amore? Un'insegnante. Il mio insegnante di matematica. Quando avevo 13 anni. Durante una gita scolastica mi sbucciai un ginocchio. Lui mi medicò il graffio e mi tolse le mutandine. Ma io non conosco questo uomo. Eleonora, sono George. Tuo marito. È una congiura. Volete farmi impazzire? Ma perché? Perché? Non mi toccate, lasciatevi stare! Dorothy! Dorothy! Ce n'è soltanto una. Uccidilo. No! 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 Non che. Io che. Si 행복o! Non votre mormisora è è probabilmente ma? Che. Me lo vuoi o di si朋友! Che. Grazie. More drills! Grazie a tutti.